ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video e allora vi porto con me oggi bellissima giornata oggi è domenica mi sono alzato circa un'oretta fatta alla tavola andiamo a fare una bella escursione tanto per dire sulla spiaggia oggi bella giornata di sole ieri sera ha piovuto oggi invece c'è il sole o il supporto nuovo della copro lo sto provando o anche impostato la gopro in questo momento a fare una registrazione diciamo con la lente grande angolare quella più ampia che potevo perciò stare vedendo sia la parte destra sinistra e anche in fondo credo che la qualità video in questa macchinetta ragazzi non sia male e infatti viene portata da quasi tutti una delle migliori action cam che c'è in questo momento in commercio e andiamo ti faccio vedere qualche bella ripresa se riesco perché perché ossia poca memoria infatti ho preso anche una memoria extra che in teoria non ho qui no a casa e poi la batteria è anche scarica ti faccio vedere cosa utilizzo quando vado fuori per i video e allora questo ragazzi è un carica batterie doppio per le batterie della gopro questa è una batteria questa è un'altra batteria dovrebbero essere entrambi cariche presa tipo c usb che si collega appunto normalissimo carica batterie samsung a casa o quella da 64 questa è un'altra 32 che ora andrò a mettere al posto di quella che ho perché piena sperando che non c'è nulla e poi questo è la copertura eccola qui di gomma che si mette nel tappo perché ho montato sulla gopro è un case di gomma così eventualmente cada terra mi protegge questo è il treppiedi eccolo qui una due e tre ragazzi questo treppiedi e favolosissimo qualità eccellente e resistente appoggia benissimo in più eccolo qui è estensibile io col mio fai da te ho fatto questo supporto questo supporto mi serve per andare a applicare più videocamere posso mettere una qui e una qui questo per fare delle riprese particolari che vedrete in un altro mio canale perché si ragazzi o sto avviando un altro canale o meglio sono due però il primo già ho caricato il primo video non ve lo svelerò ora ma più avanti il secondo ci sto ancora lavorando vi dico che uno è dedicato alla stampa 3d infatti ho fatto l'investimento come hai visto e l'altro ragazzi non ho ben ancora deciso però un'idea ce l'ho è un'idea che credo piaccia perché è una tematica importante ai giorni nostri niente ragazzi andiamo avanti facciamo qualche ripresa ora cambio le batterie metto la memoria nuova e facciamo una bella e few moments later ok so che non sono magnifico però e allora stavamo dicendo ragazzi sulla componentistica che importo con me nelle mie uscite e allora sicuramente sarò contro sole perciò eccolo contro luce perfetto andiamo così allora io solitamente ragazzi quando parto non voglio attrezzatura pesante e uno perché mi scoccio portarla e poi ho problemi di memoria e può anche capitare come è capitato che mi dimentico pezzi qua e la perciò una cosa sola massimo due che cosa sono la gopro un power bank anzi 3 e la valigetta piccolina quella che vi sto prima con tutti gli accessori della gopro un'eternità più tardi un'eternità più tardi un'eternità più tardi Grazie a tutti. Grazie a tutti.